Prima tappa della visita del ministro del Rio ai cantieri della metropolitana di Catania, una giornata importante per la città etnea perché oggi si dà il via a un nuovo cantiere della metropolitana che collegherà le fermate Stesicoro e Palestro. Inoltre, proprio in questa occasione è stato siglato un accordo fra la Circumetnea, il ministero, la città di Catania e l'assessorato regionale ai trasporti per dare la possibilità di allungare la tratta della metropolitana fino all'aeroporto. Graziano del Rio ha parlato infatti dell'intermodalità, dell'importanza dell'intermodalità, cioè la possibilità di collegare tutti i vari trasporti delle città metropolitane quale Catania ambisce a essere, dunque aeroporto, porto metropolitana e sistema di trasporto interno.